e ciao a tutti ragazzi io ovviamente dico ovviamente solo il vostro carissimo e tra virgolette amato eltro 16 e oggi siamo nella minecraft scp che bello e nello scorso episodio avevo visto l'scp 573 cioè il tubo magico piffero magico bene in questo video andremo ovviamente a vedere un scp che avevo chiesto nel sondaggio community e avete detto che volete l'scp 902 cioè il conto alla rovescia finale scp 902 the final countdown bene e oggi andremo a vedere proprio questo e siete contenti io spero di sì anche perché secondo me sto video non se lo calcolerà nessuno perché perché la vita yeah che bello anche perché c'è la monetizzazione nessuno la guarda mi guarda più i miei video non è come prima vabbè e niente allora la cella dell'scp di oggi cioè il 900 è questa qua allora direi di mangiare e di buttarci ok sotto c'è un salmone quindi ciao salmone ed ecco qua la cella entriamo ecco eccoci qua e l'scp di oggi è il 902 di classe cater allora ragazzi scp 902 io lo conosco ok è uno molto famoso si chiama the final countdown cioè il controllo vabbè l'ho già detto prima in pratica questo scp è quella cassa è una cassa eccola qua peccato che non ce l'ho spyglass perché non sono della 1.17 e quello la è una cassa in pratica questa cassa questa cassa ha la capacità anomala di emettere un ticchettio sì un ticchettio che molti penseranno che si un conto alla rovescia e che ci sia all'interno di scp 902 qualcosa che sta per esplodere questo ccp l'ho fatto pure sul secondo canale che trovate qui sopra se volete andarci che stiamo arrivando ai 200 iscritti per me farebbe molto piacere intanto ragazzi adesso io direi di entrare nella cella perché teoricamente non c'è nulla da vedere questo qua ti fa soltanto impazzire credere che ci si qualcosa all'interno e che sta per esplodere ok direi di entrare oh oh one moment ragazzi sentite no no allora io sto sentendo un ticchettio uno strano ticchettio non so se si sente ovviamente non si sentirà nel video però in caso si sentisse si sente un ticchettio ragazzi che sembra quello di un orologio o con tutta sincerità sembra quello di un orologio oh mio dio io c'ho una paura cane di sta cosa no aiuto qualcuno mi aiuti comunque non lo so se si sentirà nel video ma con il 50% non si sentirà questa è la cassa ragazzi comunque lsp902 se io lo apro vedete non c'è niente al suo interno perché questa cassa è vuota cioè teoricamente non si nemmeno dovrebbe poter aprire cioè no in realtà si potrebbe aprire questa qua dovrebbe anche avere la forma della testa di un essere umano ma se vedete non c'è niente al suo interno perché ti fa credere se io la spacco ok molto strano ragazzi molto strano quando ho preso la cassa che peraltro è una cassa normale si chiama cassa questa il ticchettio ora non si sente più è molto strano molto anomalo se io la ripiazzo e niente è ricominciato il ticchettio va bene allora non so cos'altro possiamo sperimentare perché non c'è praticamente nulla da fare con questo scp è una cassa aspetta aspetta voglio fare una cosa se io la riapro se io ci metto qualcosa dentro tipo ho messo scp 001 anzi no ma ti ho anche questa key card block ti ho un po' di roba ecco anche questo così è random la spacchiamo ok vabbè non è nulla di che perché mi ridà gli oggetti poi non capisco nemmeno perché la cella si è fatta in legno perché teoricamente questo materiale è infiammabile in legno si teoricamente è infiammabile in legno allora io c'ho una sciarino voglio provarla come dire intanto per un attimo non si è sentito il ticchettio non so ok allora non possiamo uscire adesso me lo dite scusate chiedo umilmente scusa ma io sono leggermente intossificato leggermente però ok allora adesso che siamo fuori andiamo voglio uscire qua dalla cella perché voglio provare se possiamo bruciare la cassa l'SCP 902 mettiamoci qua prendiamo la cassa la piazziamo la piazziamo e la bruciamo no aspetta aspetta ok intanto si sente ancora il ticchettio anzi aspetta no non posso sopra no non raga non si può bruciare mi sa che non si può bruciare non si può bruciare raga cioè guardate allora io la metto qui cioè se io metto il vedete non si brucia ti ho qua ma io no non posso bruciare vedete raga io sto aia 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 ok dai su forza che ce la fai dai dai bruciati intanto dentro non c'è mai niente perché ovviamente è una cassa che non non ah bruciati aia aia e niente ho buttato l'acqua ma io non ok vabbè ragazzi allora intanto il ticchettio si sente ed è molto brutto io ragazzi non so cosa cos'altro fare perché abbiamo visto tutto quello che questo scp può fare direi di andarcene prendiamo la cassa e usciamo dalla cella cioè teoricamente questo qua funzionava come quello della lockdown perché per chi ha giocato all'scp lockdown è stata aggiunta la cassa all'scp questo scp 902 ed era come cioè se la tenevo nell'inventario non succedeva nulla se la piazzavo si sentiva il ticchettio se la aprivo non c'era nulla all'interno ma teoricamente la la cassa questa cassa non c'aveva nulla all'interno allora allora